ciao 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 stelline come state io ovviamente spero che vada tutto 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 molto 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 bene benvenuti in questo nuovo video che come avrete già letto dal titolo è dedicato ai preferiti del mese del mese appena trascorso ossia aprile come sempre prima di iniziare mando un mega bacio alla mia amica alessia del canale alessia alessiasml con cui collaboro un bacione grande 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 tesoro mio ovviamente inutile dirvi anzi ve lo ripeto andate passate assolutamente da lei i link li trovate sempre giù nell'info box ma ormai mi auguro che la conosciate già tutti 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 allora allora ah e poi ovviamente devo anche mandare un saluto un saluto particolare ai abbonati che sono gioele 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 gianluca gianluca elisabetta elisabetta chiara chiara e michi un bacione a tutti 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 voi e grazie poi per quanto riguarda il tema abbonati c'è una novità ma ve ne parlerò poi in seguito allora mentre chiacchiero perchè ho un po' da chiacchierare come sempre prenderò prenderò questa spugnetta che chi mi segue anche su twitch conosce bene perchè è un trigger che sto facendo spesso ma anche di twitch parleremo dopo perchè ho delle cose da dirvi allora io adoro questo suono lo scratching su questa spugnetta cerco di farlo delicato 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 allora partiamo subito con i film o le serie tv di questo mese allora ho come sempre guardo di la perchè ho tutto 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 segnato allora vado in ordine come sempre i film ve li scrivo in sovraimpressione allora il primo film film guardato è stato The Eater The Eater che è un thriller devo dire un film veramente veramente ben fatto ad alcuni può sembrare un po' lento magari e però bisogna non distrarsi nel senso che se si perde un dettaglio è possibile che poi non si abbia poi tutto chiaro quindi è un film che comunque va seguito secondo me con attenzione sul quale è meglio non distrarsi ma veramente ben fatto mi è piaciuto tanto questo tra l'altro ha durato anche un bel po' due ore e quindici esattamente due ore e quindici e lo potete trovare su Netflix come sempre io non vi dico molto anzi quasi niente della trama perché non voglio non voglio spoilerare nulla quindi evito sempre di dire di dire però è molto molto bello veramente poi ho visto uno di noi ecco questo film che mi sembra abbia vinto anche qualche premio l'ho visto su Prime se non erro ed è un thriller un thriller drammatico è con Kevin Costner e l'attrice donna il nome in questo momento non non lo ricordo però è una grande attrice e devo dire interpretazione magistrale sono stati bravissimi e vabbè ma si sapeva già è un film del 2020 anche questo è durato abbastanza 1 ora e 54 minuti e è una storia molto forte devo dire mi è piaciuto veramente tanto anche questo e ho pianto ho pianto anche alla fine proprio KO molto bello consigliato consigliato poi un altro filmone proprio di quei thriller che piacciono a me è stato Inheritance credo si pronunci così del 2020 quindi anch'esso molto molto recente thriller drammatico è una storia molto appassionante riguarda questa protagonista è figlia di una ricchissima famiglia che fa parte anche della politica americana e in pratica alla morte del padre diciamo che il padre gli lascia un'eredità molto particolare segreta e molto particolare quindi si vede la storia di questo protagonista le prese con questa eredità diciamo così è veramente carino a me è piaciuto ci mi è tenuto appena incollata il film devo dire e che questo dura un'ora e 51 minuti poi poi ah ho visto Il colpevole un film del 2018 questo qui l'ho visto su Prime è un film se non erro danese mi sembra mi sembra di sì allora è molto statico nel senso che si svolge in una sola stanza che sarebbe il posto di lavoro anzi in due stanze che sarebbe il posto di lavoro del protagonista però secondo me ancora più devo dare ancora più merito a film del genere che si basano praticamente tutti sull'immaginazione perché tu il film te lo crei in testa in pratica perché ovviamente come dire vabbè diciamo che questo lo capite da subito quindi posso spoilerarlo tra virgolette c'è praticamente questo poliziotto che riceve una telefonata perché lavora in quel call center tipo di pronto intervento e riceve una telefonata molto particolare quindi si svolge tutto in questo luogo di lavoro e tutta la storia si basa su quello che voi ascoltate ma che costruite poi di conseguenza nella vostra mente da una figata secondo me cioè non è il primo film del genere che guardo ma mi piace molto perché può sembrare appunto noiosa una cosa del genere cioè vedere un protagonista un solo protagonista cioè che voi vedete nel film e un luogo e basta invece fa tutto la vostra mente mi è piaciuto tantissimo e poi ho visto un film che avevo lista da tantissimo tempo che è la ragazza del treno anche questo è un thriller anche drammatico se non erro e mi ha sorpresa tantissimo perché all'inizio perché all'inizio pensavo una cosa in realtà non era così devo dire che è stato molto bello molto bello quindi anche questo sento di consigliarvelo ma credo che l'avrete già sentito ne avete già sentito parlare perché molto è un film abbastanza famoso ecco se ne parlo molto quando uscì mi sembra ci sia anche un libro quindi questo e poi vabbè ho visto un film parliamo di un film molto più leggero l'ho visto su Prime avevo il ciclo stavo malissimo mezza morta nel letto non avevo voglia di cose pesanti o cose che cose che implicassero che essessi abbastanza attenta quindi ho messo il film ho messo il film genitori contro influencer il film con protagonista Giulia Delellis e Fabio Colo è un film molto semplice però comunque è carino mi sento di dire no che schifo perché non lo penso è un film piacevole da guardare magari così senza impegno di pomeriggio magari carino e devo dire su qualcosa fa anche riflettere quindi ci sta e poi vabbè è come non citare lol ma c'è che ne parliamo a fare inutile raccontarvelo perché credo che l'avete visto proprio tutti mi sono proprio fatta sotto dalle risate è stato bellissimo poi li conoscevo praticamente tutti quindi l'ho visto insieme al mio fidanzato ci siamo divertiti tantissimo e quindi se volete fare due risate due sane risate che ne abbiamo tutti bisogno e non l'avete ancora fatto guardatelo perché Meritange albino mi ha fatto divertire tantissimo tantissimo allora poi poi posiamo la sfugnetta e passiamo al capo d'abbigliamento del mese allora siccome vi ho spiegato che non faccio grandi uscite se non per andare a fare rare volte la spesa vi faccio vedere che cosa ho ho indossato di più in casa e sono queste pantofole inutile farvele vedere tutte e due allora eccola qui la parte che io adoro questo coso di peluche sopra che numero è? 37 il mio è il 37 ma io adoro questo peluche qua sopra allora queste pantofole questo tipo di pantofole si porta tra l'altro si usano anche per uscire si portano da un bel po' di tempo andai in un negozio l'anno scorso e le vedi tipo a 50 60 euro poi ordinando su shane le ho piste e costano niente e sono veramente buone e quindi veramente super consigliate poi ce l'ho da mesi e mesi e non si è proprio rovinato il pelo poi e questo è quanto poi via il dente via il dolore vi dico subito alla voce smalto del mese non vi posso rispondere perché state intravedendo lo schifo stelline mie ho rimosso tutto ho mangiato tutto cerco il più possibile di non farvi vedere le mani perché veramente sono pietose il discorso l'ho affrontato anche su twitch spiegando tutti retroscena anche del perché non faccio video in cui sto evitando di fare make up roleplay eccetera perché non mi avvicino troppo con le mani o meglio il video precedente che avete visto quello lì in cui vi faccio diciamo le carezze ecco se io faccio così lì non si vede nulla però se vi devo truccare mi devo per forza avvicinare con i pollici i pollici sono distrutti ho dovuto rimuovere la costruzione la colata di gel perché le volevo far respirare un po' tra virgolette perché comunque i primer interpoliscono le unghie e stavo iniziando a rosicchiare ho detto beh non riesco a farmele di nuovo perché sono troppo corte e malandrate quindi vabbè l'unico motivo che mi da forza per smettere di mangiarle è perché devo far video e per forza devo smetterla ecco quindi non ho nessuno smalto da mostrare perché neanche il rinforzante sto mettendoci però mi prometto appena finisce questo video mi metto lo smalto rinforzante poi poi ah cibo preferito allora vi consiglio questi questi qui che io trovo al supermercato sulle 365 allora sono sono dei crostoni cioè non sono crostini piccoli sul mio stomaco appena avete cibo allora vedete sono abbastanza grandi allora questi in particolare sono con cereali e semi di lino semi di girasoli scusate semi di lino i miei preferiti che in questo momento non ho perché li ho finiti e tra l'altro anche di questo vedete non vi mento cioè ne sto ne stiamo usando parecchi e infatti questo è il secondo terzo scatolo questo che vi sto mostrando questi qua sono vi dicevo i semi di lino e semi di girasoli che sono buonissimi però i miei preferiti sono quelli solo semplici cereali e pasta e io li adoro anche quando di notte per esempio ho fame perché sapete vado a dormire molto tardi e mi viene un po' l'angorino verso luna ovviamente non è che posso mangiare di nuovo mangiare schifezze allora prendo questo ci spalmo sopra un po' di philadelphia light e va bene e poi secondo me con l'arrivo dell'estate pure come aperitivo così vedete come proprio c'è l'immagine qui vedete magari con due pomodorini gialli un formaggio cremoso si possono fare in tanti modi e sono ottime anche con le zuppe quindi io ve li straconsiglio ne trovate di diversi tipi comunque per quanto riguarda l'accessorio invece allora 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 vi mostro questo phone straps che ora si portano tanto me lo sono fatto fare dalla mia amica Anna è una delle mie migliori amiche ve ne ho parlato mille volte via la pagina che ha borse accessori collane orecchini catene per gli occhiali per la mascherina i phone straps insomma di tutto e mi sono fatto fare un phone straps anche per me aspettate ve lo faccio vedere eccolo qui e lei mi ha scritto baby che è il mio soprannome come mi chiamano i miei amici quindi ovviamente mi ha messo baby vedete io l'ho voluto con dei colori pastello ormai stanno uscendo il boom li vedo a chiunque e vabbè ovviamente come tutti i suoi accessori sono personalizzabili ci sono di tantissimi altri modelli anche con i corallini trasparenti il resina con le perle le perle più dubbie queste sono perline invece di con colori pastello la scritta può essere insomma come volete con i ciondoli insomma basta andate a visitare la pagina perchè tra l'altro veramente fa delle cose stupende e vi lascio qui il nome preciso official anemone precisamente è il nome della è il nome della pagina e vi lascio anche il link della pagina instagram nell'info box e nulla quindi questo è l'accessorio ce l'ho fisso al telefono ovviamente da quando me l'ha dato tra l'altro l'ho fatto vedere anche su instagram scegliete voi i colori tutto tutto ok poi 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 il prodotto del mese allora io per lavarmi il viso per detergere il viso uso una spuma alla malva di cui già vi ho parlato c'è proprio il video e tra l'altro anche un recentissimo roleplay spa ho utilizzato su di voi i prodotti che utilizzo su di me quindi come scusa per farvi vedere anche un po' tutto quello che utilizzo visto che me lo chiedete e sto testando la spuma e ha detto mio fratello velia provala perchè secondo me ti può piacere tra l'altro abbiamo controllato l'incide è ottimo è verde ed è questa spuma che si trova su internet su amazon e è questa qui della cattolier e devo dire che il profumo sa proprio di sa proprio di purificante di bio non vi so spiegare ah ecco allora una schema detergente uva idratante salvia purificante per tutti i tipi di pelle del viso allora questa è ottima sia per uomo che per donna io l'adoro pulisce benissimo è delicata comunque straconsigliata vi metto il link giù nell'info box e poi per quanto riguarda invece i prodotti doccia devo dire che vi vorrei vedere sempre la stessa cosa perchè sto utilizzando bagnoschiumi neutri per il momento e da un po' di tempo quindi non vi ripropongo per l'ennesima volta il bagnoschiuma che vi ho già mostrato nel precedente video però vi faccio vedere questo sapone detergente che mi piace tantissimo a volte lo utilizzo anche quando mi faccio il bagno perchè mi piace troppo questo con questo mi ce lavo le mani però a volte non vi nascondo che quando faccio il bagno qualche cucina addosso me la butto perchè mi piace troppo il profumo ed è questo gel di frutta idratante e tra l'altro ha il 96% di ingredienti di origine naturale quindi insomma anche per questo lo posso usare anche addosso senza problemi oltre che per lavarmi le mani e il sapore d'odore è fragola fragola e ciliegia ha un profumo stupendo mamma mia è della fresh and clean stra 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 consigliato anche questo adoro per quanto riguarda il make up invece niente 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 di nuovo l'unica cosa che mi sono permessa di testare fa anche schifo perchè mia madre ha preso questo mascara dell'astra avevamo sentito parlare del fatto che c'era questo nome mascara dell'astra che era molto valido però non ricordavamo il nome mia madre è andata ha preso questo mascara però sicuramente non si riferivano a questo perchè no ne ho parlato anche su twitch di questo qui non so se si vede allora è il sexy volume sexy volume mascara waterproof allora va benissimo che non si scompone non si scompone perchè veramente non si scompone anche nel momento in cui lo mettete è molto incurvante ne riesce le ciglia ok però questo veramente cioè per chi vuole una tenuta estrema ma proprio estrema che tipo per 3 giorni vuole il mascara sugli occhi va bene però vi assicuro che è troppo difficile da struccare ma che cos'è anche con l'olio d'oliva ho provato 3 ore no e mi dopo quando mi strucco mi trovo con gli occhi enormi cioè confi no non è possibile ci vuole troppo tempo per struccarsi con questo mascara qui bisogna stregare e fare e no non mi va quindi bocciato per questo motivo poi ho ricomprato il mio fondotinta che è quello della Deborah quello con gli ingredienti naturali con cui l'ho fatto dire mille volte e poi per quanto riguarda invece l'evento riprende la mia spugnetta allora i due compleanni delle di due mie migliori amiche e mi sono anche se lontane comunque abbiamo fatto una videochiamata e di sera ci siamo divertite tantissimo come sempre accade quando stiamo insieme o quando ci sentiamo e noi ci sentiamo sempre tutti i giorni però abbiamo un gruppo con cui cioè in cui comunichiamo sempre tutte e quattro però quando facciamo le videochiamate è troppo divertente ci divertiamo tantissimo e quindi è stato molto bello e poi un altro evento è stato il mio sbarco su Twitch allora io ve ne ho già parlato in qualche video precedente ma ancora non avevo fatto nessuna live ad oggi che è oggi che giorno è? oddio oggi è mercoledì 27 28 non lo so comunque per il momento ho fatto due live e la prossima la farò oggi o domani a me piace troppo Twitch mi diverte tantissimo è stupendo comunicare con voi in tempo reale cioè adoro ci facciamo un sacco di risate parliamo di tutto mi tenete compagnia io tengo compagnia a voi è bellissimo e le live solitamente le faccio tardi non devo dire la verità perché appunto ecco per registro video tardi così anche le live devono per forza cioè per forza e quelli sono i miei orari ecco però cercherò di farle un po' presto perché siccome sono live in un video e poi ho notato che col bluietti i rumori si sentono meno si appasso il gain quindi potrei anche farle verso le undici e mezza mezzanotte non troppo tardi e quindi niente continuerò lì su spero di continuare ad essere molto presente anche su YouTube ma capite che è veramente difficile cioè è un periodo proprio full per me in quanto sto studiando tanto ve l'ho già detto anche su Twitch mille volte e faccio che qualcuno mi ha chiesto ma adesso cioè farai video anche su YouTube io spero di riuscire comunque a portarvi 4 video al mese su YouTube però fare video montare video fare live su Twitch studiare insomma è un periodo bello pieno 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 poi c'è il tirocinio la tesi tanti esami insomma non è un periodo in cui non ho niente da fare ecco quindi cercherò di fare il possibile sicuramente su Twitch ci starò più spesso perché pure più immediato io ho a che fare più da vicino con voi è più dinamico per il momento lo preferisco e poi non c'è la fase di montaggio cioè cosa che a me toglie troppo tempo quindi se vi va di seguirmi supportarmi venite di là perché mi farebbe molto 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 piacere il link lo trovate giù nell'info box e mi trovate insomma come Black Moon smr vi ho caricato una live due video fa non tutta perché quella lì dura un'ora e mezza ma vi ho caricato tipo 36 minuti giusto per farvi vedere come funziona ma sono ancora all'inizio quindi non c'è già la chat per esempio da come l'avete vista ora è cambiata ho aggiustato un po' di cose quindi piano piano insomma sarà sempre più piacevole seguirmi almeno spero non l'ho parlato tantissimo ovviamente come previsto anche in questo video capite bene che Twitch provi il mio mondo già posso chiacchierare all'infinito all'infinito e nulla io vi mando un bacione grande grande a tutti tutti voi e ah no mi sono dimenticata di citare il video ASMR del mese che è quello della carissima Alice del canale Ivernal ASMR avevo fatto un get ready with me con una palette stupenda della Naked una delle ultime della Naked e l'adoro e la ringrazio perché quel video io l'avevo proprio espressamente richiesto e il voice over di quel video cioè l'intro dove parla Alice e poi il voice over su questo trucco lo fa Erika del canale Ninfea ASMR e che ve lo dico a fare cioè sono due delle mie voci preferite da praticamente da sempre da quando sei con l'SMR quindi vi straconsiglio non solo i loro canali ma anche di guardare questo video se vi piacciono i get ready with me il voice over e ovviamente un bacione e un saluto ad entrambe e niente stelline io veramente direi di chiudere qui perché come vi dicevo ho straparlato vi mando un bacione grande 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 e fate i bei sogni vi voglio bene buonanotte stelline buonanotte buonanotte